Ma in quanti siete? In quanti siete? Fatemi sentire un bel urlo al tre! Uno, due, tre! Ufficialmente buongiorno a tutti e benvenuti in Montecchia City anche quest'anno come sempre Repito di G.I. Voice, Asama, lo vanno al punto in movimento presenta il singolare Io volevo fare un saluto ma non mi sento che prendono il volo insieme a voi le cicale mesi e mesi di studio con le gamiga mesi e mesi di lavoro no, ce ne ando, ce ne ando 180 persone un applauso alle cicale le cicale cicale, cicale, cicale che la bonita e invece lucida e mimica altro uomini che le son in tv e la scatola del mondo io e tu per cui la quale cicale Grazie a tutti.